Mikavi sarà ospite della finale di Amici, in programma sabato 15 maggio 2023. Il cantautore presenterà il suo nuovo singolo, Tatuaggio, e si esibirà con il brano, La vita breve dei Coriandoli. Giuseppe Gioffre tornerà in TV con un nuovo programma intitolato, Boom! Gli incredibili anni 60. Il format del programma prevede la presenza di due squadre che si sfidano in prove a tema anni 60. Gioffre sarà affiancato da una squadra di esperti del mondo dello spettacolo e della cultura. Il programma andrà in onda su Rai 1 a partire da settembre 2023. Gioffre ha commentato l'esperienza come, un sogno che diventa realtà.